Il fatto quotidiano non demorde, parla di una sua tesi come la tesi copia e incolla, cosa sono i fake news? Guardi, io confermo di firmare in settimana l'azione civile contro il fatto quotidiano, ho aspettato a farlo perché credo nelle istituzioni e quindi ho aspettato che le istituzioni parlassero e accertassero ciò che il fatto diceva. Ha parlato l'Università di Lucca creando commissioni interne e chiamando anche dei saggi a verificare ciò che il fatto quotidiano diceva, ha parlato il Cambridge Journal of Economics, a questo punto procedo con l'azione civile che come ho detto firmerò già questa settimana.